Mi proteggerai da quei terraformisti? Ottimo, tieni lontano da me quei plasmatori terrestri e io porterò questa pozione ad Hunter. Ottimo, tieni lontano. Oh, i miei piedi stanno meglio. Ti occuperesti di questa cosa per me? Mi daresti una mano a togliere di mezzo questi ostinati plasmatori terrestri? D'accordo. Quando colpisco un plasmatore terrestre con una freccia, dagli una testata prima che si rialzi. Ricorda, per dare una testata devi saltare e poi premere azione. Ricorda, per dare una testata devi saltare e poi premere azione. Ricorda, per dare una testata devi saltare e poi premere azione. Siamo una grande squadra. Tieni, volevo darla all'alchimista, ma al momento sono piuttosto irritato con lui. Tieni, volevo darla all'alchimista. Tieni, volevo darla all'alchimista, ma al momento sono piuttosto irritata, ma al Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.